In medicina diciamo che quest'anno ci sono state un po' di problematiche, qualcuno sostiene che si può fare, ma soprattutto sul foglio c'erano dei segniti sotto alla pagina e quando noi abbiamo chiesto ma ci sono dei segni, loro ci hanno risposto a no, saranno dei segni di stampa, procedete, non c'è problema. Ci puoi spiegare in che segni? Signetti di penna, non sappiamo se c'è una penna o stampa, però c'erano dei segniti. Il primo foglio? No, solo il primo foglio, c'è proprio questo segnito.